Un'attività in piscina per prevenire le malattie degenerative, l'iniziativa presentata dall'assessore del Comune di Pescara, Dinizio, riguarda un ciclo di lezioni gratuite da offrire agli over 65. Un'iniziativa lodevole che ho subito accettato perché parliamo della piscina ginnastica dolce per tutte le persone della terza età, da 65 anni in su. Questa iniziativa è completamente gratuita, pagata dal mio assessorato, sono 20 posti, inizierà a maggio, finiremo a giugno. Le iscrizioni si faranno direttamente dalla piscina provinciale, iniziando da oggi, troviamo il numero di telefono sul manifesto. E che dire, io sono veramente orgogliosa quando possiamo fare queste iniziative, soprattutto perché non lasciamo mai indietro nessuno. Al via questo corso, come sarà strutturato? Allora, questo corso si terrà il martedì e il giovedì alle 8.30 del mattino e dura 50 minuti, in piscina provinciale. L'attività che verrà svolta è la idrocognitiva, che si pone come obiettivo quello di rallentare il processo degenerativo fisico e cognitivo. Si presenta come un'attività ludico-ricreativa, ma in realtà pone un'attenzione particolare al recupero e al potenziamento della memoria, attraverso stimoli e movimenti spazio-temporali. Sui costi sostenuti nella prevenzione, la responsabile fitness del club acquatico rimarca. L'importo speso per questa attività non deve essere visto come una spesa, ma come un investimento, perché una persona che si mantiene in salute e autonoma il più a lungo possibile, determina un sensibile risparmio per la collettività, in termini di medico-sanitari e socio-assistenziali. Inoltre, questo progetto può essere considerato progetto pilota, perché in base agli esiti degli utenti e degli enti coinvolti, speriamo e ci auguriamo che possa diventare un'attività continuativa.